Che devo dire? Allora la cometa, la stella cometa. Nel 2000 ad occidente brillava la cometa di Apollo, che era la cometa che poi, la stessa cometa storicamente dimostrato, che indicò ai magi la via di Bethlehem, dove i magi trovarono un bambino appena nato. Io spero che questo discorso nella nostra Unia, sui luoghi del terremoto, la stella insieme all'albero, insieme a tre sepe, riempano di serenità la nostra gente che ha sofferto molto. Noi dal punto di vista, da noi, per il poco che possiamo, cercheremo di portare i doni, di prendere i prodotti e portarli al nord, insieme a questo pulmino che grazie alla solidarietà dell'intera Italia, del prologo d'Italia, dovrebbe arrivare molto presto. Grazie e buone feste a tutti.